Buonasera e ben trovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura alla cronaca ancora incidenti sulle strade aretine. Facciamo il punto in questo servizio. Weekend di sangue sulle strade aretine. Ieri la morte di un 34enne cortonese di origini rumene Georg Lucian. Erano le 6 del mattino quando il mezzo nel quale era passeggero, un furgoncino pick up, ha finito la sua corsa contro il muro di cinta di un'abitazione in via Adua mentre stava viaggiando da Castroncello in direzione Castiglion-Fiorentino. Per Georg non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Sull'incidente indagano i carabinieri di Cortona. A quanto emergerebbe sembra che il furgone uscendo dal sottopasso del cavalcavia ferroviario non abbia continuato la traiettoria in curva ma ha impattato contro la recinzione in muratura che si trova lungo la strada. Alla guida c'era un connazionale di 36 anni che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Siena. Le sue condizioni sono in miglioramento. L'ipotesi di reato in casi come questo è ora quello di omicidio stradale. Sempre domenica sera e ancora a Castiglion-Fiorentino un altro incidente con un'auto che si è scontrata con una moto lungo la SR-71 intorno alle 23 e 30. Nonostante l'intervento del Pegaso i feriti non sono gravi. Il Centauro, un ragazzo di 24 anni, è stato trasportato con l'elicottero Pegaso all'ospedale Lescotte di Siena in codice giallo. La donna che viaggiava a bordo della vettura si trova invece all'ospedale della Fratta in codice verde. Sul posto un'ambulanza della misericordia di Castiglion-Fiorentino e i carabinieri per i rilievi. Il terzo incidente domenicale si è verificato in serata in località Chiasa Vico dopo un impatto frontale fra due auto. Due i feriti, uno dei quali, un uomo di 44 anni, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Fiorentino di Careggi. E una persona è rimasta ferita nella notte in via Guadagnoli ad Arezzo. Il movimentato episodio è accaduto alle due circa nel centro cittadino. La squadra volanti della Polizia di Stato è intervenuta e qui un uomo di 38 anni ha raccontato di essere stato aggredito e colpito alla testa con una bottiglia ed è stato affidato alle cure dei sanitari. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Arezzo. Un diverbio pare per motivi personali sfociato in violenza. L'aggressore poi si sarebbe allontanato e, stando al racconto della persona ferita, avrebbe cercato rifugio all'interno di un locale. In corso le indagini della Polizia per rintracciare l'autore del gesto. E restano sul tavolo tutte le questioni sia di sistema sia economiche. Sono le parole di Lucia Tanti a margine del nuovo vertice sul sistema delle ambulanze aretine da lunghi mesi in sofferenza. Al tavolo, insieme ai sindaci della zona socio-aretina sanitaria, i presidi delle altre conferenze zonali, insieme a Croce Bianca, Croce Rossa e Misericordia. In questi mesi da parte della regione toscana non c'è stato nessun segnale né di distensione, né di sostegno, né di supporto, conferma Tanti. Siamo rimasti esattamente fermi a luglio 2022 e al febbraio 2023. Una regione silente, assente e distratta che scappa di fronte a queste problematiche. Il forte rischio è di avere nei prossimi mesi un territorio privo di risposta di emergenza urgenza, fino ad arrivare a situazioni dove il presidio viene smantellato. Questo sostiene ancora Tanti. Mi ha portato a scrivere nuovamente una lettera all'assessore Bezzini e come assessore vice sindaco di Arezzo mi riservo anche la possibilità di un'azione più robusta, organizzando una protesta istituzionale per richiamare chi di dovere all'attenzione che questa situazione merita. Conclude con queste parole Lucia Tanti. E arrivano da tutto il Comune le segnalazioni relative alle buche, una situazione aggravata in questi giorni anche dalle piogge delle ultime settimane. Dal Comune 3 milioni di euro per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Vediamo il servizio. Gomme nuove che sono rotte dalle buche. Questa è una gomma nuova rotta dalla buca? Sì, si vede. Buche, alcune anche molto grandi e profonde, soprattutto nelle arterie più trafficate. Le segnalazioni arrivano da ogni angolo del Comune di Arezzo, dal centro cittadino alla periferia. Una situazione aggravata anche dalle piogge delle ultime settimane. Dipende dalla stagione, dal tempo. Quando piove effettivamente aumentano gli interventi. Quando piove ovviamente aumentano anche le buche. È quello, è normale, è relazionato. L'amministrazione comunale per fra fronte, soprattutto alle situazioni più critiche, adesso è pronta a mettere in campo un piano di azione straordinario anti-buche. 3 milioni di euro messi a disposizione. I lavori interesseranno circa 35 mila metri quadrati di strade. In parte saranno destinati per la manutenzione straordinaria, quindi via Tarlati, un esempio, un asse importante che verrà completamente rivista, come via Anconetana, via Trento Trieste, via Michelangelo, via 10 dicembre, via De Gasperi. Quindi interventi che andranno a ripristinare quelle che sono le criticità evidenti che appunto sono nella nostra viabilità. 900 mila euro invece si aggiungono ai già stanziati 500 mila per i lavori di manutenzione ordinaria. Dove abbiamo riscontrato delle criticità che prevedono il ripristino del tappetino di usura dell'asfalto, appunto andremo a risolvere direttamente con la nuova asfaltatura. La prima parte degli interventi prenderà avvio entro l'estate. Con alcune asfaltature partiremo nel mese di luglio, mentre altre nel mese di settembre e ottobre, in maniera tale da riuscire a dare una risposta entro i termini anche che poi garantiscono una corretta posa dell'asfalto, perché come sappiamo bene nei momenti di maggior caldo e di maggior freddo è bene non fare certi tipi di intervento perché daranno una risposta anche più critica rispetto a quelle che sono le esigenze e anche una risposta in termini di tempi minori. E torniamo alla pagina sanitaria. È stato eseguito nei giorni scorsi ad Arezzo dalla dottoressa Marilena Gubbiotti il primo intervento di neuromodulatore sacrale presso l'urologia dell'ospedale San Donato diretta dal dottor Michele De Angelis. Si tratta di un'importante novità e di una preziosa acquisizione di una tecnica chirurgica mini-invasiva per l'urologia neurofunzionale. E stamani è stato anche inaugurato il nuovo riunito odontoiatrico all'ospedale Santa Margherita della Fratta di Cortona, che ha sostituito il precedente e va ad aggiungersi ad un altro già in attività. L'installazione del nuovo riunito odontoiatrico presso l'ospedale della Fratta rientra in un piano di rinnovo di tali tipologie di apparecchiature in dotazione alla USL Toscana Sud-Est, ha dichiarato il direttore sanitario della ASL Toscana Sud-Est Simona Dei. Questo hub ha le caratteristiche per dare risposta anche ai pazienti fragili, ha precisato il direttore amministrativo della ASL Toscana Sud-Est Antonella Valeri. Il nostro augurio è che possa diventare un punto di riferimento non solo per il territorio, ma anche per i pazienti provenienti da altre zone. E cambiamo argomento. Docenti e personale ATA dell'Istituto Comprensivo Piero della Francesca di Arezzo e sono a Dublino grazie al progetto Erasmus+. Vediamo. È stata un'esperienza direi avventurosa, ma molto formativa e interessante. Anche perché l'abbiamo vissuta in gruppo. 17 tra docenti e personale ATA dell'Istituto Comprensivo Piero della Francesca erano così partiti lo scorso 27 agosto alla volta di Dublino per frequentare i corsi di General English di diversi livelli grazie al progetto Erasmus+. Un'esperienza adesso condivisa con il resto della scuola. L'esperienza Erasmus è stata un'esperienza positiva dal punto di vista soprattutto umano e professionale perché ci ha permesso a qualcuno di rinfrescare le sue conoscenze di lingua straniera. Ad altri invece ha permesso di acquisire le competenze necessarie per poter affrontare giornalmente la vita della nostra scuola perché nella nostra scuola dobbiamo dire che l'utenza è formata più che altro dal 17% di utenza multietnica per cui c'è bisogno di rapportarsi con famiglie che non conoscono l'italiano e con cui possiamo scambiarci opinioni oppure possiamo avere informazioni soltanto nella lingua inglese. C'è da dire anche che non solo gli insegnanti hanno partecipato ma anche il personale ATA che è quello che ha confronto diretto con le famiglie e l'utenza della nostra scuola. Diventa secondo me un valore aggiunto per il nostro lavoro, per svolgere meglio il nostro lavoro proprio perché siamo al fronte, diciamo così, davanti alle persone, quindi all'accoglienza delle famiglie che parlano anche solamente inglese. Costruire alleanze educative tra scuola e territorio, presentazione del primo rapporto sulla dispersione scolastica in provincia di Arezzo è il titolo del convegno che si svolgerà nella Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia, giovedì 1 giugno a partire dalle ore 15. L'iniziativa è promossa da Oxfam Italia in collaborazione con la provincia di Arezzo con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Fondazione Arezzo Comunità. E adesso andiamo a Ceciliano dove ieri si è svolta la dodicesima edizione dei ragazzi del Calcit raccolti circa 15.000 euro che saranno destinati al servizio di cure domiciliari oncologiche. Vediamo il servizio. Dopo il record di incassi della scorsa domenica, oltre 50.000 euro in ricavato, è tornato il mercatino dei ragazzi del Calcit, questa volta a Ceciliano. Siamo veramente contenti di poter essere giunti a questa dodicesima edizione, che non è un numero elevato ma è un numero molto importante per noi, il che significa che siamo riusciti negli anni ad avere un'aggregazione. Siamo riusciti in particolar modo a portare tanti bambini e abbiamo coinvolto la scuola di Ceciliano come da diversi anni e siamo veramente contenti che sono presenti, sono veramente loro che fanno l'anima veramente di quello che è il mercatino. Sono stati raccolti circa 15.000 euro, anche in questo caso destinati al servizio scudo di cure domiciliari oncologiche. Ci stiamo in qualche modo mettendo l'anima per poter dare il nostro contributo. È un contributo importantissimo soprattutto per lo scopo. In questa occasione ringrazio tutti gli aritini che sono venuti a trovarci, se è evidente che ancora questo mercatino il Calcite fa aggregazione e serve. E ritorna a Castigliano Fiorentino la merenda nell'Oliveta. L'appuntamento è per venerdì 2 giugno alle ore 16 al Parco del Cilone, da dove partirà il serpentone degli amanti della natura e del buon cibo per arrivare alla frazione castiglionesa di Orzale, dove si tiene la festa parrocchiale in onore della Madonna delle Grazie. E sono tante le iniziative di questo fine settimana. È tornato anche il raduno di auto e moto storiche cittadierizzo. Il servizio. Quasi 300 auto e moto d'epoca in una domenica baciata dal sole. È così tornato il raduno cittadierizzo organizzato da CNA quest'anno alla sua undicesima edizione. Siamo riusciti e abbiamo avuto la fortuna di una giornata meravigliosa, veramente. E la partecipazione è stata sopra le aspettative. La carovana è partita da Arezzo ed ha percorso le vie della città in direzione Monte San Savino, poi pranzo a Ruscello ed infine ritorno in Duomo, dove erano presenti anche le maschere del carnevale dei figli di Bocco. Il ricavato dell'iniziativa, come sempre, sarà devoluto in beneficenza. È veramente un bel giro organizzato bene, puntuali. Siamo in orario perfettamente. Sarà un branco di gente, sarà tantissimi. È un grande successo. Un'iniziativa quest'anno anche nel ricordo di Piero Franchini, scomparso lo scorso marzo. E adesso spostiamoci in Val di Chiana. Andiamo esattamente a Lucignano, dove c'è stata una nuova edizione della Maggiolata. Oggi è una giornata straordinaria, bellissima la nostra Maggiolata, piena di sole e piena di gente. Siamo davvero orgogliosi di presentare di nuovo i nostri meravigliosi carri. E poi abbiamo annunciato oggi anche l'evento Clu di settembre, che è il Festival dei Borghi più Belli d'Italia, perché l'8, il 9 e il 10 di settembre Lucignano sarà teatro nazionale dei Borghi più Belli d'Italia. Saranno presenti tutti e circa 350 Borghi più Belli d'Italia a Lucignano. Quindi poi sveleremo il programma e vi racconteremo però davvero un evento unico che rappresenta i Borghi e l'Italia autentica. Vedere questo colpo d'occhio, questa gente così numerosa, ma soprattutto partecipe e empatica con l'iniziativa è davvero una grande soddisfazione. Ovviamente sono qui anche per testimoniare l'impegno del mondo economico, che comunque è corollario e a margine di quella che è poi l'impegno dei volontari, della Proloco e di tutti quelli che permettono la realizzazione di questo evento. Ovviamente però partecipa in modo significativo e sarà la Camera di Commercio a fianco anche per questo evento legato ai Borghi più Belli d'Italia, che appunto si celebreranno nei prossimi mesi. Lucignano è sempre bella, ma con la maggiolata è ancora più bella. È una bellissima occasione anche per tanti turisti che, oltre a vedere le bellezze di Lucignano, possono apprezzare anche la bravura di questi quattro rioni che sanno fare veramente cose incredibili. Quest'anno i carri sono veramente molto molto belli. Dovessi giudicare io non saprei veramente a chi assegnare la vittoria. E si è chiuso con grande successo di pubblico il primo weekend di Cortona Comics, una due giorni di intense emozioni che hanno coinvolto i disegnatori e i visitatori. Tra i momenti più intensi l'inaugurazione della mostra di Giorgio Cavazzano, grande maestro della Disney, che ha anche ricevuto il premio Iacovitti alla carriera. Nei due giorni del 27 e 28 maggio c'è stato un susseguirsi di appuntamenti, incontri con gli autori, presentazioni di libri che hanno coinvolto il pubblico presente e i tanti bambini intervenuti. Il prossimo appuntamento è per giovedì sera con il concerto di Tananai, che fa da preludio al secondo weekend della manifestazione. Nei giorni 2, 3 e 4 giugno Tex Wheeler e i supereroi saranno i protagonisti indiscussi. E adesso passiamo alla pagina sportiva. Ancora un successo per l'Amen Scuola Basket Arezzo nella serie finale dei play-off contro la Sibe Gruppo F Prato. Gli Amaranto si portano sul 2-1, una sfida al meglio delle cinque partite. In servizio. Secondo successo consecutivo per l'Amen Scuola Basket Arezzo nella serie di finale play-off contro la Sibe Prato, che si porta così sul 2-1 in una sfida al meglio delle cinque partite. A spingere dal successo Gli Amaranto ha anche un palasport extra straordinario. Prato comincia a sprombattuto, l'Amen regisce e ribalta la situazione, chiudendo il primo quarto sul 21-14. La SBA poi accelera ancora, portandosi sul 32-18 con 4 minuti all'intervallo. Il time-out di coach Pacini ferma però l'inerzia a retina. L'Amen non riesce in attacco a mettere punti a referto, così Prato può agguantare la parità a quota 32 con un parziale di 14-0. Pur in difficoltà i Amaranto tengono grazie ad una difesa che toglie riferimenti certi agli avversari. In equilibrio si chiude la terza frazione. Dopo un attimo di studio e rientro la SBA cambia decisamente marcia. Prima Vaselovinovic, poi per tre volte Toia portano l'Amen sul 54-45 a 7 minuti dalla fine. Pacini e Mascagni provano a dare un segno di ripresa, ma la difesa dell'Arezzo è diventata praticamente impenetrabile. Al rientro in campo, dopo il time-out di coach Pinelli, arriva un altro parziale dell'Arezzo con 5 punti di cornare e 2 liberi di Toia che fanno volare a più 18 l'Amen. Pacini e Mascagni sono gli ultimi ad arrendersi, segnando 5 punti consecutivi, ma ormai il tempo gioca a favore degli Amaranto che con attenzione riescono a gestire il vantaggio sino alla sirena finale, chiudendo la partita a 71-56. Con questo successo l'Amen si porta in vantaggio nella serie. Mercoledì 31 alle 21 al Palasport Estra si giocherà un'altra appassionante sfida, appuntamento da non perdere per tutti i sostenitori e Amaranto che sono stati il sesto uomo in campo in questa sfida. Dobbiamo capire che questa serie si vince dalla difesa perché nella prima partita abbiamo fatto un po' più, anche a livello tattico, scelte sbagliate, probabilmente ci hanno punito. Gara 2 e gara 3 abbiamo difeso veramente tutti con intensità che forse nell'arco dell'anno non avevamo mai avuto e al momento ci sta pagando. Dobbiamo ripartire da quello. Poi in attacco dobbiamo sistemare, ci hanno messo in difficoltà con questa zona, più che altro all'inizio, dopo un po' meno, ma in attacco so sicuro che la mia squadra ha potenzialità per qualsiasi difesa la trova davanti. La difesa fa la differenza e stasera tutti, Carlo, tutti, Peluchini, la difesa da tutti, non avevamo destra. Ci vediamo mercoledì per un'altra battaglia alle ore di 21 e mi raccomando venite tutti perché fa veramente la differenza. Ed è stato un successo di pubblico e di atleti per la cinquantesima edizione della scalata al Castello. Vediamo. È l'ugandese Osea Kiblanga a conquistare la cinquantesima edizione della scalata al Castello, classica di podismo, ben organizzata dall'Uppi Policiano, capitanato da Fabio Sinatti e la sua famiglia e con validi collaboratori. Una cavalcata solitaria spettacolare la sua, cominciata verso metà corsa e che si è conclusa vittoriosamente sul traguardo di Via Roma, nel cuore di Arezzo. In campo femminile la keniana Lucy Muli, 25enne atleta africana, ha realizzato un tris peraltro consecutivo, mai riuscito a nessuna. L'edizione delle nozze d'oro della scalata al Castello è iniziata in mattinata col successo tra gli amatori di Girma Castelli, dell'Orocchiella Garfagnana, che ha preceduto Eugenie Christoshen, Policiano, atleta di origini russe e con un bel passato da ciclista. Tra le donne successo di Valentina Mattesini, sempre dell'UP Policiano. Poi il pomeriggio intenso in una calda giornata davanti a un buon pubblico con le gare del settore giovanile. Spettacoli vari. Poi il clou con il circuito cittadino, arrivo in Via Roma, che le donne hanno ripetuto sei volte per cinque chilometri, gli uomini dodici per un totale di dieci chilometri. In gara anche l'ex campione europeo di maratona Daniele Meucci, che nel 2008 fu l'ultimo italiano a vincere la scalata al Castello. Un gran finale di stagione ha confermato la ginnastica Petrarca nel campionato nazionale di B di ginnastica artistica maschile. L'ultima tappa della stagione è andata in scena a Napoli con i play-off e i play-out, dove gli atleti aretini hanno trionfato con una prestazione impeccabile che valza il primo posto tra cinque squadre da tutta la penisola e i conseguenti festeggiamenti per il mantenimento della serie cadetta. La ginnastica Petrarca, dunque, sarà anche nel 2024 tra le realtà d'eccellenza del panorama dell'artistica italiana, potendo nuovamente competere in uno scenario importante come la B per la terza stagione consecutiva. E questa era anche l'ultima notizia per il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.